20 e 21 agosto in Villa Borbone a Via Reggio si trarà questa quinta manifestazione dedicata alla cultura e cultura del peroncino. Teniamo a specificare perché appunto è una rassegna dove abbiamo cercato di mettere insieme, di promuovere la cultura di questa essenza, di questo ortaggio, di questa spezia al suo consumo, al suo utilizzo in modo il più trasparente possibile che sia un beneficio per la salute di tutti e per cui anche un'educazione al consumo. Con tutte le informazioni abbiamo sempre due convegni. Quest'anno avremo un convegno sulla salute e sulla medicina dove parteciperanno il dottor Lunardini, la professoressa Albini e il professor Masini della Coldiretti Nazionale dove praticamente si parlerà degli aspetti salutistici di questa pianta, di questo frutto. Mentre invece poi dopo la domenica ci sarà un altro convegno su un cibo peperoncino e bellezza perché appunto anche questa è un'educazione alimentare dove ci sarà la giornalista gastronoma, l'onora Cozzella, lo chef stellato Landi e lo stilista Massimo Rebecchi. Questo per cercare appunto di dare, di sottolineare, di tenere alto il livello culturale di questa manifestazione. E poi c'è l'aspetto invece culturale, culturale agronomico dove praticamente verranno messe in esposizione come da sempre una parte della collezione dei peperoncini che è la più grande Europa di Massimo Biagi dove ci saranno anche proprio sculture di peperoncini nelle varie forme a piramide, alberello, bonsai eccetera che quest'anno fra l'altro è anche una novità. Poi ci sarà all'interno di questa rassegna uno spazio per bimbi con un'agri ludoteca, i giardini di Manipura dove animeranno per i bimbi uno spazio all'interno della Villa Borbone verrà presentato in anteprima una rassegna di tre favole chiamate favole di Mr. Peek anche lì per i più piccoli a cura dell'editrice Industria e Trillatura di Massa Carrara ci sarà anche un'animazione per i più piccoli con burattini poi inoltre verrà presentato all'interno di questa manifestazione un marchio dell'azienda che è il Giardino Orto che è un arredo giardino fatto con materiale riciclato poi ci sarà la possibilità tramite un catering anche di un servizio di ristorazione e infine poi c'è anche la venda di piante di peperoncino ma soprattutto questo teniamo a sottolineare anche la venda di prodotti della filiera Mr. Peek che è la prima filiera in Italia tutta tracciata e certificata che scatolisce appunto dal peperoncino per cui pasta, birra, biscotti, marmellate, creme tutto a marchio Mr. Peek e ci teniamo a precisare il nostro peperoncino è tracciato e certificato perché è l'alimento più consumato dopo il sale al mondo però nel contempo è anche il più inquinato ecco per cui il fatto di avere un prodotto made in Italy soprattutto in questo caso made in Tuscany è certificato questo è la garanzia dei nostri consumatori perché di fatto poi quello che ci interessa nella sana alimentazione se un prodotto fa bene alla salute però se non è tracciato e è prodotto in modo così non molto trasparente rischiamo che un prodotto che è buono per la salute poi faccia male alla salute dell'uomo stesso per cui abbiamo cercato in questa quinta rassegna come sempre anche grazie al patrocinio soprattutto questo è da ringraziare il patrocinio della regione della provincia della Camera di Commercio del Parco Migliarino Sardosone Massaciuccoli e poi soprattutto del contributo della partecipazione della banca della BCC della Versilia di Regio Lunigiana ecco questo come dire cerchiamo di dare anche un messaggio di speranza in un circuito virtuoso in una collaborazione sul territorio tra aziende private enti pubblici banche e associazioni culturali affinché ognuno per la sua propria parte si cerchi di contribuire a un futuro migliore sotto il profilo economico ma anche e soprattutto della qualità della vita grazie 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 grazie